Salve a tutti amici e ben trovati, sono i vostri Mitter, eccoci qui per l'amisodio di Cluster Recky 3 La nostra campagna con l'avventuriero, il mercenario, il guerriero, il viandante, Belisario Vi do il minuto da qui perché voglio vedere il menu, e appaio un po' vedere il menu, quanto è figo l'immagine tra sotto Io molte volte apprezzo il gioco quando nelle piccolezze fanno queste cose Se appunto io ho i personaggi che stanno nella tenda, mi farei dei personaggi con la sua armatura nel menu Sono delle piccolezze, ok, quello di avere un menu che cambia in base al momento del gioco Però a volte le piccolezze sono quelle che magari ci rendiamo meno attenzione E infatti molte volte ci sono giochi che per piccolezze hanno poi le problemi grossi Ma ricordate che è bello, il nostro Belisario con sua moglie, anche se forse la moglie dovremmo lasciarla Noi entriamo, nella nostra avventura, e sto pensando di fare video, per prima cosa penso che divorcerò Ho bisogno di un'erede? Sicuramente è purtroppo la nostra cara moglie, inferma, non può lasciare una figlia Anche se ho avuto una figlia illegittimata fuori dal matrimonio, purtroppo non me ne sono d'accordo Potrei legittimizzarla, penso, ma il problema è che anche se la legittimizzo forse non potrebbero essere l'erede No, un po' per noi fare questo, prima cosa, legittimizziamola Ok, your future is bright, o della Flavia, ok Ora in questo momento, lei è la nostra erede in teoria In mezzo è che, essendo una donna, c'è il rischio che non fosse una guerriera Vorrebbe essere, vorrebbe guidare magari questo gruppo di mercenari Come appunto amministratrice, o appunto essere anche una guerriera Non ci sembra niente di male in questo, però vediamo un po' come va ora Comunque, oltre a questo, pensavo di poter fare ancora più soldi e conquistare una contea Perché abbiamo bisogno di un territorio, e forse questo è il buono Vedo le piccole note di Bulgaria Che hanno pochissimi soldati, per esempio qua, Burgos Non è niente, non è nessuno, è saccio guerra in questo momento Io sono una tenda superiore a lei e potrei conquistare Burgas Una bellissima città, la Bulgaria va a consigliere una più bella che ho visto Sia perché è una città marittima, diciamo, turistica Ma i servizi che ci sono lì, è spettacolare I sindacoli Burgas, se ci fossero in altri posti, avremmo un mondo migliore Comunque, lascio stare questa promozione a Burgas Torniamo al gioco e quindi, questi piani Pensate di divorziare per avere un altro figlio Perché vorrei avere un altro generale Perché non ho detto che noi siamo sovrani Oppure potremmo magari puntare a questa Burgas Tenereci il nostro nome perché è la nostra soulmate, la amiamo E non possiamo lasciare la mente dei bisogni, sicuramente Altra cosa è appunto acquistare qualche conto è possibile E poi vedere la questione dell'ultima Empire Perché io, da buon greco, ottodosso Vorrei far rinascere l'impero romano, l'odiente, l'impero bizantino La campagna è partita come un esperimento E sembra che si possa confermare con una campagna Sarà, diciamo, una serie, una piccola serie Bisogna uscire una volta a settimana E, come obiettivo, ho quello di prestarmi Cioè, ho tre obiettivi da prestarmi Il primo, di ottenere un po' i poteri Una contea o un ducato Il secondo, ristorare l'impero romano dell'Oriente Il terzo, sarebbe quello di fare ciò che doveva fare il nostro avo Si dice il nostro Belisarius Appunto, lo stesso avo Belisarius Ossia, conquistare l'Italia L'Asia, la Spagna Insomma, l'elettrico dell'impero romano d'Occidente Vediamo come va Vediamo come si sviluppa questa campagna Magari, probabilmente, anche tre o un po' i presto Ma, intanto, come dirvi, magari è Fare tornare il primo manolo d'Oriente Questi territori E, soprattutto, confermarci qui, a Oriente Scacciando anche, magari Gli arabi, che sono abbastanza potenti Gli asciari Sono masciaricchi Sono molto potenti Molto espansi Vediamo se ci riusciremo a farlo Ma, adesso, ragazzi Iniziamo sul tutto di oggi Ma, per inizio, vi ricordo sempre Asciari like, commentare e condividere Soprattutto, se siete al canale Vi ricordo anche le possibilità Di seguirmi sui social Come Facebook Discord Instagram e TikTok Così, per essere di più sul mio lavoro Potete viaggiare i contenuti Tutti i miei offerti E partecipare a me Attivi Vedete il canale Conviuti Altre sondaggi Richieste Discussioni In ultimo C'è uscita le buonanze Di YouTube A fare like Marcello a fanno Sovetti in vantaggio Qui facciamo oggi Vi dovete vedere l'anteprima Anche se siete dedicati A abbonati E quant'altro C'è anche una possibilità Di abbonarsi In internet Di Twitch Con Twitch Quindi non per seguirmi E non per supportarmi il lavoro Beh, ragazzi Siamo sentuti oggi Quindi vanno le ciance Scusate sempre E che il nostro viaggio A più inizio Penso che di togliere Il Spectralizer Ossia l'effetto Qui c'è Tessunove Che mi copre Purtroppo Il caro Belisario Poi magari spostariamo Un po' Scusate a spostarlo Un attimo Ok L'ho messo un po' più A sinistra Non ti dà fastidio Non tanto Dai Non tanto C'è un livello antifini Perché non è cosa importante Riconoscere tutti i nostri figli Anche che forse Vorremmo Vedere Nel frattempo Allora Ho fatto La prima cosa importante Ossia Legittimizzare La nostra figlia Odola Che sarà E La nostra erede E' costruzione Di provare A cercare un marito Degno di lei Vediamo un poco Adesso si limita La nostra corte Posso fare più Spine Spouse Se è possibile Non posso scegliere Come erede Per il momento Anche se però E' la nostra erede Ufficialmente Ma Il nome di lei Ancora Non possono uscirci Ravener In che Sì inizia Ravener Prendiamo se sono Ok Verso da Summary Ravener Vabbè Vedremo un po' Cosa Accadere Questa campagna Già troppiamo bene L'abbiamo tolto Anche se però Vedremo Cosa dovremmo fare Io posso Svegliare Posso fare tipo Un romance No Perché già l'ho fatto Svegliare Già un buon rapporto Va bene Allora Richiamoci ora quindi A capire cosa fare Come attivo Attaccare Tarsos Ma E se è molto potente Purghaz invece no E prima che si rafforzi Facciamo anche Matrimonio O quant'altro Io farei una cosa Attaccherei Burghaz Smetto di essere Dei avventurari Questo è vero Però Con un po' di prestigio Un po' di verità Ragazzi Facciamo questa guerra Vediamo un po' di riuscire A Vincerla I'm traveling No Sono in viaggio Per dire dove sono No vabbè Quanto 1106 Perché 1106 Mo Leve Tutti insieme Un momento Dei leve Tutti insieme E allora Quella che abbiamo perso Sicuramente 1106 Davvero Really La fabbola Che magari Non c'è Vabbè Non abbiamo Diciamo Una città Però Vediamo come Svolgerà la cosa Quindi potrei morire Non corriamo Stavolta Corriamo Non si diventa Calma Va bene E Vediamo cosa potrei fare Perché Allora Purtroppo Mettiamo Il nostro Carvesale Che è un 46 La qualità è molto Più alta Però 198 E sempre Pochi Mercenari Intanto Maria Coleste È morta E' ammalata Guarda che Puoi dire Anche come sta E' bellissima Ma togliamola Mentre Maio Caliknos E' uno dei obiettivi Che Possiamo fare Questi Allora Cerchiamo un po' Di capire Esattamente Quale Il problema E' che Qui Non Sono 7 su 11 Quindi sono Non aumenta Più di 100 Refill Fino se questo Può aiutarci Nas No È molto Il nostro Carammas Il nostro Physician Se non È pure Il nostro Physician Questo Dispiace Ah Lei ci aspetta Lì Ovviamente Sa che La guerra Però Guardate Qui Siamo 800 Ecco 800 Di altissimo Livello Possiamo Che Abbiamo solo Mene Tal Possiamo Vinci Facilmente Non abbiamo Leve Quindi Ragazzi Finalmente Abbiamo Su potere Al massimo E questa È una cosa Buona Lei ci aspetta Lì Mamma E Penso Sia Finita 15 15 Vediamo Un po' Con questo Obisario Che Da Ok Ma Non riusciamo A sediare Se ne Servono 1000 Non Se ne Servono Al Gresso 1850 Bene Però Abbiamo Già Presso Un Suo Mato Abbiamo Vinto Abbiamo Anche Un Uomo Magari Ma che Bello Conosano Gli Ambienti Così È Un Nano È Tyrion No Mamma Second Physician Subito Io Potrei Morire E Spendiamo Siamo Altri Soldi Allora C'è Lui Che È Un 15 Di Learning Allora Questo Pignano Perché Proprio Essere Un Buon Struore Più Car Mentre Lui Axor È Un Ottimo Prendiamo Lui E The Time Scam Meloda È Nostra Brav On Tutte Conceptive Comando Trastic Measure Ok Misure Drastiche Si Ok Siamo Ancora Vivi Purtroppo Però Non Possiamo Studiare Quindi Rimiamo A 50% Qui Che Su C'erlo Comunque Non Sono Un Ancora Un Po Male C'è Vente Consumato Della Battaglia New Perk Marziale Va Bene Che È Simile A Ma Come Stavo Fatto Persino Allora Vediamo Poi C'è As Bellicost C'è Forse Una Skill Che Cerceva Di Unire La Richiesta Di Vittoria Di Un Poco Merge Sposo Opinion Peacemaker Ecco Peacemaker Non Ci Faremo Mai Secondo Me Però Vediamo Un Poco Tanto La Sua Mane S'era Distrutta Vediamo Un po' Se Offer Peace Enforce Demand O Vente No Vuole Vero Il 99 Ecco Ho 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 Giunto il Limite In che Senza Un Poco Un 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 Andiamo un po' se riusciamo a rile solier. Ok, altri 100. Non lo che sta a f... Ma che nave? Vediamo un po' se riusciamo a fullare queste meditarme in qualche modo. Se ci arriva dal limite. Vedremo, ragazzi. Sarà difficile, ma ci proveremo. Oh no, ragazzi. È morta nostra moglie. Riposo in pace. Noi siamo pure male. Cerchiamo una sposa. E nostra figlia, no. Ah, se no, io ho cotto i 13enne, ma no. Però mi sa che per bene la campagna avrei un altro figlio. Non so se lei potrebbe avere i 12 anni. Va, proviamo lei, va. Non vorrei... Cioè... Non so, c'è una cosa. Cerchiamo... Fertile. Fertile. Ah, ok, già è fertile. Quindi, fertile. Ok. Proviamoci. Vediamo un po' il prestigio, ma... Avevo una moglie che può aiutarci. Nel frattempo, allungiamo un po' anche qui. Mettiamo un po' di uomini. Il secondo in comando. Vediamo la nostra moglie. Ok. Quartel Mastro. Povero. Stop. Uh. Teodotus è buono. Questo è un vantaggio, diciamo, se ne do male per... Ci pare quant'altro. Bodyguard. Nicodemus. Ok. Prisoner. Guarda. A te queste cose dipenderei. Nel release... Reclutiamolo. Non voglio castarlo nel vendere lo c'è, con un piccolo hook. Ok. Guarda che bello il cappello che c'ha. Da fare... Grande. Da fare un soldato. Insomma, è morto anche Sabas. Orest. No, per il suo lavoro. Ok. Proprio qui non ci riusciamo. Credo che è un passaggio di porraziare. Perché... A meno prendere un po' di soldi. Non sarei male. Il malinato è morto. Quindi ho la Tartos. C'è un altro personaggio. E ho Femio. Credo che... E anche in guerra questo... Non so, con il 3% mi sa che non crescerà. Perché senza prendere la città abbiamo un malus terribile. Eh... Ci sembrano soldi. Allora, 4 gold. Grande 130. Riusciamo a... Ok. Allora, con il ciclo salino mi sa che siamo questi. Non andrà che sei vecchio e malmesso. Allora, qua 45. 55. 45. 1, 2, 3. Con 300 in torri potrei avere... Non so, qualche possibilità. Solo 2. Sì, che volontari. Ok. Poi cercare un barile più basso. Poi cercare qualcuno. Tu vai qui. Ah, sono stati di 700. Vale a picchiare. Ma vinciamo... Ah, 61%. Già qualcosa in più c'è. Dai, qualcosa in più. Allora... You can go to a triana. Again a whack hook. C'è soldi? Sì, faccio un po' di soldi in più. Non fa male. E niente. Bisogna aspettare. Ok, ragazzi. Poi, il mouse dei mouse. Siamo anche infermi. Che ci dà... Un bel po' di... Eh... Riepondensamente. Qui non siamo più posti in gran generale come erano prima. Siamo ancora con quanti altri nostri stessi infermi. Che ripesta per morire. Non ci posso credere. Non ci posso... Non è la sua figlia. Come ha 13enne? Posso definire la comerede? Oddio. Altri eventi negativi. E prendiamo lo stesso, ovviamente. Facciamo da... Cambiamolo. Mettiamo questo di qua. E per poco, però, non riusciamo a assediare. Incredibile. Per poco. Andiamo oltre. Ok, siamo morti, ragazzi. Bene, salvo. Due episodi. 28 anni di... Andorata carriera. E morto. Fino e me. Trotto la pace. Per consumazione. No, tu... E così doveva essere eccezionale stratega. Aspetta molto tempo in battaglia. E allenare truppe. Stare a potere. Mi stessa odore. La sua figlia è stata legittimizzata. La figlia era... La figlia di sua... E di sua moglie. Quindi, nella sua forma di matrimoni. Ma, alla fine, la sua figlia. E sarà da potere 13 anni. Sì. Lei ha bisogno di avere di tanto potere di aiuto nella emergenza. Ma... Vediamo un po' cosa riuscirà a fare. Nel frattempo. Non abbiamo erede. Ok. E noi dobbiamo cercare di sposarci. Cioè, il nostro personafisiccio. Che ci... Ora mi hanno 18 anni. Ma... Mmm... Non mi convinto. Lui dice... No, è Costantino. Sei lì. Giuseppe il nano. Oh. Nicodemus. Non sapeva troppo di... Aspetta un attimo. Quanto verrà che bella cosa... Lo scudo lì. Pronto a comodere. Ma il parere è il problema che... Abbiamo troppi pochi uomini. Non so se siamo a un sacerdote di altissima qualità. Ora un po' meno. Però siamo pochi uomini. E... E questo è un problema. Tanto qui... Spendiamo 15 per avere Restrate Refreshed. Per essere un po' sicuro. Siamo critici. Quindi mi viene proprio un po' di stress. Ma... Facciamo questo per il bene... Nostro. E dei nostri uomini. Pensate che sono ritornati questi. Vai così. Continuiamo a picchiarli. Si fanno picchiare con piacere. Eh vabbè. Ma che sono quelli di Mila? Michael Calamanos? E entriamo lussuriosi. Vi posso dire... Siamo qua a 5... Facciamo una cosa. Va facciamo una White Piece. Purtroppo... Pochissimi uomini non ce ne vogliono di più ragazzi. Ne vogliono molti di più. Quindi facciamo questa White Piece che non ce la facevamo. E allora... A questo punto... Abbiamo 32 Ducati. Non abbiamo niente. Però qua ne ho un 0,2. Va bene. Allora. Altro vento qui veloce. Per fare soldi. Let's go. Gregario, join your camp. 94 N. Non sarei male il 6. Però l'ultimo... Potrebbe essere un buon generale. Dai così. E allora... Mamma, sono tutti malati. Intanto le nostre... Forte. Cazzo, maestro Ruth. A ritorno andiamo in queste forese. Ah, no. Non conviene, insomma. Andiamo, va. Partiamo. Intanto è nato Michael. Ah, perché nostra madrigna... Kira... Era incinta. E' nato... Mi, Michael. Però Michael non mi piace. Io magari così... Così, è Belisario... Belisarius... Poi lui... Nicola è il nostro pare... Che è morto... E lui nascesse. E diventerà lui... Il nostro erede. Vorrei anche lasciarlo... Anche a 13 anni. Pay. Ok. Già vadiamo bene. L'abbiamo fallito. Benissimo. Vadiamo proprio benissimo. Proprio per... Error erede. No, però già... Ora già non conviene. Do c'è Child. Qualcuno che è bravo in marziale. E c'è Attila il Gentile. Non lascio... Greco... Direzione Tosef. Non rompere la scatola. Tanto qui... Aga. Cosa può darci? Attraver to accept. Io divento intanto qui... Comfortable Trapping. Per 10 anni. E... Gallows Wave. Che sarebbe? Ah, un tratto criminale. Cioè, uccidiamo quest'uomo che è il Physician, mi sembra, no? Era il Physician. Ok. Perché sei... Distante, no? Ah, ho messo un altro. Beh. Comunque, travel set. Andiamo. Facciamo questa altra missione. Motto un altro set generale. Sto qui. Subito. Cercherò i migliori. 21. 13. Ok. Non sono buoni, neanche brutti. Però il problema è che... Abbiamo anche... Questi si chiamano pure Belisarius. Si chiamano Belisarius quest. Incredibile. Il problema è che... Non tutti ci vogliono... Vedo bene che... Forse anche siamo... Le donne vorrebbero creare questi problemi. Secondo me. Abbiamo un po' l'ansioship. Ioanna è la nostra Crash. Beh. A fine abbiamo la Red. Non mi potrebbe anche andare bene. Però vediamo di capire un po' che non si è accorto perché ci vuole tanto male. Male dominated. Vedi? Di adesso qui c'è a meno 10. Carter absent. Corto ex evil. Beh. Questi sono contatti, diciamo... Negativi. Però... Avete fatto di non essere una donna. Ci dà un malus. Prima di non decicciato con tutti. Allora. Potrebbe diventare un Flash World Leader. Stagia così. Quindi non lo combattono. Taros che è stata annessa a Nicea. Bene. Pur gasimali però. Attenzione. Insomma con più di 1000 truppe. Riusciremo anche a sconfiggersi. Qua 2100. Questo 2100. Siamo per 1700. Non cercare di avere almeno una sicurezza di 2000 truppe secondo me. Come minimo. E vabbè. If you want to know how my brother should be treated. Allora. Should like... Ma quando non ci consiglia niente. Fa tutto il necessario ma non mi so è drastica. No. Piccolo. Guardalo. Vabbè. Cioè il nostro padre è sfortunato. Veramente. Sfortunato il nostro presto sempre. E non mi cercherò uno sposo allora. A tutti i costi. Proverso di Physician. Che accetterebbe Martellina neppure. Ok. Poi guarda che non possiamo rilasciarci con altri stati vicino a noi. Questo è un po' un problema che è... Guardando l'altine mi pare è piccolino. È diventato. Oh. È guarito. Meno male. Sono felice per il nostro fratellino. Molto felice. E l'altine mi pare di avere il favore. Ah ok. Cioè con pezzo di creda così a cazzo proprio. A caso proprio. Vabbè. Ok. Qui sono andato a trovare il cedo del successo. Quindi io proverei... A provarci anche con dieci va. E sicuramente con la confidenza. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Giusto. E anche per diventare uno dei hunter. Nice shot. Per dire uno dei soldi. Non ce l'ha questo. Ma va bene. Mamma quanti eventi negativi tutti insieme. Mettiamo un accordo fuori che troppo negativi. In fronte è triste. Non c'è un documento marziale. Col valore. E cioè di avere qualche bonus. Su pacemaker. Non c'è appunto. Ok. Per il momento. Possiamo anche sposarci. Purtroppo dobbiamo farlo. Per. Avere un marito. Mi viene portato con lui. Soprattutto avere. Poi avere un'erede. Anche perché ho paura che lui morisse. Però vabbè. Intanto il nostro fratellino sta crescendo. Perché devo forse essere ferita. Kira. Mamma. Continuamenti negativi. Porca. Che una miseria. Kira. Spiace. Kira però. Non. 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 Non è voluto. Se noi ce l'avamo apposta. Possiamo morire il campo dove? No. Vabbè. Nel calco sono. Sono anche richieste di oro. Ci manca prestigio. Molto. E abbiamo continuato a combattere allora. Vai così. Si viaggia. Si viaggia. L'Europa è il Basilea. Sono capito. Eccellente. Per il Master. Si va. Si parte. E' partita no? E infatti eccola qui. Mamma mia. Stress e soldi perdiamo. Ma se gioia il nostro campo. Non c'è problemi. Chi si è ammalato ora? You hit the plant. Non voglio mangiare la pianta. Ah. Prendiamo ancora prestigio. You hit the hill. Mamma mia. Quanti ieri negativi. E' tutto a prestigio. Che sono i peggiori. Per il momento direi. Start probably starting to get the movie at your camp. Ma sto viaggiando. E' impazzito. E' sono qua io no? Non sto capendo. Fincente non sto capendo. Increase un rule counting your support by 1. Start probably to start without movie camp. Ma c'è il paese sta viaggiando così. Ma perché devo viaggiare così? Per fare un lavoro. C'è sono una guerriera. Ah perché non ci sono. C'è qui un contro per sopportare la fazione. Forse tu è che ne so più contratti. Ecco è che. E' solo a quanto. Caffiana. Direi. Può fare il tuo interatto. Va bene. Ma io non parto. Non parto più. Va. Fermate un attimo. Allora. Support faction. Di quest'uomo. Che ha 3.900 tuppe. Contro così qua. Duca. Il Lord is a free. Liberty faction. 3 contratti dai. You are forced by Lord of Mesa to join a Liberty faction. Ok. Liberty faction. Sì. Due membri. E siamo noi lì. Guarda che siamo fiere. Che siamo fiere proprio. E' lì di faction. O best. Mi sembra. Contro. E' stato contro lui. Che. Non è così forte. In più anche in guerra. Mamma mia. Dammi prestigio. Sì. Dammi prestigio. E' forte. Che deve essere positivo. Ora va. Non so. Fratelli. D'interrodi. Ottimo. E' lì. E' il nuovo imperatore. Che è un polacco. Che ha 10.000 tuppe. Quanto. E' forte. Comunque è bello. E' qui. E' un polacco di Istanbul. Meraviglioso. Meraviglioso davvero. Nel frattempo. Io potrei. Andiamo alla cittadale. Cerchiamo nuovi contratti. Magari. Allora. Anche per andare a questo pezzo. E' qui. Ci costano tutti parecchio. Quindi. Adios. Ma io cerco contratti. Mi sono deciso. Mi sono deciso. L'ho salita di fax. Ma poi me ne andrò. Me ne andrò. Sono stanco. E' qui. E' qui. Manicea. Ah. Stiamo proprio a liberarsi. Ah. Non lo capisco. Ok. Restigio. Oh. Ovviamente. Siamo in positivo. E' a questo punto. Vediamo un po' questo gate. E' provviscione. Cosa deve fare. Ah. Bisogna andare a caccia di provviste. Che però. Sono già al massimo. 600. Che non ci servono. Purtroppo. Bene. Allora. Questo va in guerra. Ci vuole assumere. Eh. Proviamo accettare. Con 900. 946. Truppe. Perché è in mare. 5. Cos'è? Poco entro. Solo 5. Però. Perché è in mare. Oh. Arrivano i nemici. Perfetto. Non sono da aspettarli. Venire qua. In cilicia. Bene. Duca Echion. Vuole. Ah. Paranid is my hill. Vuole. Unirsi a noi. Massiva. Allora. Qui. Vediamo un po' di. Ok. Stiamo in cilicia. Vediamo un po' di fare. Un po' di guerriciore. Qui magari. Dicevo. No niente. Non riusciamo a assediare. 1850. E questo è il limite che dobbiamo avere. E proprio i nostri alleati sono già morti tutti. E se non ho qui ci ammazzano sicuro. Ti vedete qui. Siete in pace. Vado qui sui nemici. E la parita quasi. Dove erano un po' più di uomini secondo me. Ehm. 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 Fate voi. Esimilato Prestige. Attenzione. Ci ispirano sulle montagne. E noi qui moriamo. Via. Scappa. 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 Cioè. Sì. Qua hanno poi alleate. Ma è detti. Ok. Niente. È morto pure il nostro Ioannes. Perfetto. 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 Non si aspettava lì. Oppure lui è stato fatto. Qua c'era. Quando ci costa. 10. Non accetterà. Perché non accetta. Via. All the war. Ok. Mamma. Tutti incarcerati. I will be patient. Ok. Il problema è che. Davvero. Se il mio alleato. Non si faceva subito. Stacco i pali. Ma vate le esercito. Potevamo vincere. Purtroppo. Però. Era lì che aspettava. In pratica. C'è il caso di scappare. Ma sto. Io. Non devo andare. Va. You can go. Tu zaccopi. Mira come. Ah no. Questo no. Basta. Tanto. Nasce Alexandra. Fiedermaster. Ah. E' nostra figlia. E' nostra figlia. E' nostra figlia. E' in carcere. Poverino. Ok. Nasce Alexandra. E deve essere. Sempre. Nosa figlia. Ok. Niente. Amice. Non so più amice. Ok. Ah. Quanti venti negativi in questo momento. Mamma mia. E' la vita. Spero che molti dei nostri. Compagni di Toino. Purtroppo. L'hanno presi. Diciamo. I. Diciamo. Gli altri mercenari. Infatti. Non ce li danno. Bene. Bene. Ma non benissimo. Quindi. Andiamo a cercare il nostro momento. Viene tutto. Per il Amazon. Ti costa 50. Un piccolo conti basta. No. 50. Sto maledetto. Andiamo a pigliarlo. Dove è stato questo. La T-Nab. È il momento di spostarci. Vediamo molto ciò. Ma non dobbiamo riuscire a farcela. A sto punto ragazzi. È il momento di spostarci. Abbiamo una rete che è Alexandra. Ma posso mangiare prestigio e perdere stress. O. Anzi. Prendiamo prestigio. Prestigio molto utile in questo momento. Ma potremmo pressare. No no. Ok. Dacci un po' di soldi. Escort emissari. Lasciano. Non è un'esperienza. Un contatto che possiamo raggiungere. Non voglio ammalare. Sto cosa di ammalarsi. Non c'è più malattie che hanno tolto finalmente. Diamine. Hanno messo solo queste cose così. Che tu mentre viaggi. Devi fare degli esperimenti. Oh. Non so qui come siamo messi. Aspetta. Scusate. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. Noi. 3. 3. 3. 3. 3. 4. 3. 4. 4. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 7. 7. 8. 8. Tina. 8. 9. 11. 8. 9 . 11. 10. è stato anche indipendente eh sì ci sono vorrebbero spostarci qui viaggi una città del nord e sperare anche se l'impero è già lì pronto a mangiarsi tutto comunque sceliamo i nostri uomini 25 dai così 13 non è male ecco i muscoli dai per i sali questo è muscoloso sicuramente va bene siamo al meno 4% vediamo dove andrà questa altra missioncina veramente potremmo andare a spostarci in Italia qui troppi grandi imperi difficili da conquistare espanderci è davvero limitante tanto qui paghiamo questo maledetto questo è pure sono eh sì per i ramson 10 per i prendici la nostra corte va ok followers sono qui quelli che sono in caccia no mi vediamo indietro da questo tizio mi ha detto e ramson e poi lui è tornato ok non c'è più nessuno se c'è tra i nostri camion liberato c'è qualche car position ci servirebbe per favore dimmi oh si c'è va bene dai per il tempo noi cerchiamo di mandare se c'è tutto al massimo e poi faremo il refill meta non c'è da avere al massimo anche i numeri non solo i slot liberi per reclutare qui sono 0 su 50 ci costano 107 ci costano parecchi soldi allora vi dico intanto gold quanto ci costa per 94 mercato provviste ottimo tutto questo in pratica va bene però siamo già almeno tornati a essere un numero recente di soldati o 355 che non è male qui siamo al 100% quindi a suo punto SQ scheme anche con 5 e ce l'abbiamo fatto ok va bene ti torno a casa ragazzi ti torno a casa non vuoi perdere 50 sinceramente basta 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 questo è libero non so che cresce come curiosa questo è indipendente per conquistare una città che è in mezzo a tante altre cittadine non come tanto altri imperi altra cosa che deve fastidio è il fatto che in pratica non ho i mille uomo per assediare le fortesi quindi io vedo stress non mi suona niente contrat vable qui ci può dare dell'oro tanto oro o cavalieri o marimona darci del oro va e faccio anche un po' di scivio per il momento in un momento meta engineer perfetto utili negli assedi e il nostro campo si può migliorarlo 350 quant'è caro ok non dobbiamo gattino chiameremo mite qui si parte altre missioncini mi viene un po' di fare un po' di soldi soldati così da essere davvero arrivare a quel 2000 uomini che sono che potrebbero essere utile qui 27 aspetta qui 21 probabilmente li piglio prima poi vedo i 20 e poi prendo ecco lei 21 qui mentre qui la 19 giuro ci siamo a livello però dai metto i migliori nelle professioni all'oro più congeniali siamo al 29 104 fa poi già 5 ma qui si va la grande 6 no si va molto bene qui tomo io anche soldati dow john your camp perfetto un altro cavalliere lo pigliamo ok qui siamo 84 con 10 favori 91 91 91 potremmo anche andare così quasi qui never back down o card ship yes prima può essere garanti ma senza un occhio si dacci soldi no non mi ha fatto la misa aspetta 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 ducati il bel po' di soldi devo dire tanti soldini quasi cosa 200 335 il costo sono tanto vedete qual è quel piatto di best che ci fa abbassare i soldi diciamo il costo dei mercenari ok sono anche guardita molto bene ho qualche spregio in faccia ma questo è solo onore niente di più niente di meno è stato a casa va bene andiamo a provare qual è questo e qua c'è altri soldi dei contract si viaggia un piccolo gruppo no chi l'è la nostra martigna vediamo un po' il prestigio va ancora e basta fate pace va dobbiamo investigare niente da fare darci i soldi va perfetto darci i soldi non te non mi frega niente mi piace i soldi andarci alla fine noi stiamo qui per che non so non è la sua regione non ci resta fare amicisse va anche se vediamo opinioni di questi uomini che mai chi se ne frega invece ho un bel po' di soldi sono già 500 a questo punto andiamo a migliorare la tende da campo 350 dai così dai così facciamoci anche un'altra missioncina dai così si viaggia caravan master paramit che eccellente scapore talent e questo di qua e si parte ancora una volta bene facciamo quest'ultimo viaggio tanto qui che ci da soldi metta non ce l'ha più dacci un po' di soldi va non fa mai male e allora 22 subito qui 18 non lo mettiamo subito qui 22 si mette non so caravan master qui 26 johan hevil grandissima questo reddice e qua c'è un 18 perfetto perfetto quindi si va autoinvita agenti anche se penso che l'ho fatto io sono quelli che devo scegliere e non quelli ex che trovano nella corte qui vicino comunque altri contratti vabbè altre cose però stiamo anche facendo crescere il nostro campo quindi almeno non stando male che per adesso con la nostra cara cara odora non è un po' difficile cosa che non gli ho dato io e quindi non mi ricordo però intanto qui non mi ricordo male dei buoni vantaggi qui diventa mazzare più 2 vai così ci da questo medio un boost metà più 2 e nel mio stile scam più kin c'è più capacità di insomma tante cose buone ci costa 500 non abbiamo fatto praticamente ora il quarto è massimo è morto in edizione e sblocchiamo un altro edificio stai con me io devo fare altri soldi stress loss da me stand quello con la camera non cadere in più camperimeter per avere move domestic travespeed travespeed travesse afeti sicuramente non sono altri lavori ti può aggiungere qualcosa qui no va bene bisogna uno stop penso che siamo ecco siamo ancora qui qua siamo alzate per cento esegui lo schema anche con 5 e abbiamo risolto altri soldi che entrano ritorno a casa all right nel frattempo io vedo un po' mio fratello come è messo cresce bene risolti e overdrawing però per se no non lo voglio grazie c'è una cosa simile da mio cuore grazie non mi servi va bene torniamo a casa quando sarà possibile eccoci qua dai metti play è sbagliato oh basta questa cosa del fatto di lo rischio ecco siamo morti non ci posso credere non ci posso credere siamo morti non ci posso credere oddio un regno davvero molto 24 anni è morto sarà sua figlia Alexandra magari potrà bene chiuso chiuso a new dynasty destiny in che senso place andando nel carattere of your dynasty that is not you're here no no continuo con Alexandra per favore e ci sposiamo con il mio zio con il mio zio ci siamo ibridi però nel frattempo ragazzi veramente Adoro l'ha fatto il suo ha fatto un po' di soldi mi ha dato l'esercito mi ha dato i campi è molto così c'è un regno brevissimo per un cavo di di cose che tu devi provare per forza questa frutta c'è il 5 accento di rimanere malare di morire e io l'ho ottenuto vediamoci non c'è in testa per niente se c'è in testa nera ok allora allora vediamo poi di uscire anche il nostro ecco su essere di learning o di diplomati vi vediamo un po' cosa ne uscirà fuori la nostra cara Alexandra che è parte con 77356 ha 7 anni non è per niente male il nome di prowess c'è un po' di soldi c'è la prestigio non c'è più i ready ma va bene va bene pure così cosa vuole questo no no aspettate stati lì stati lì che dire ragazzi non so se forse devono spostarci comunque diremo se finire qui questo nuovo episodio di oggi con la morte della nostra cara Dola che lascia il potere alla sua piccola Alexandra il suo padre che è dovresti reggente no anche persona physician dovresti reggente dovresti reggente con chi sposarsi io credo che erano sette anni e quindi sai che per una situazione si fai male come marito dirigente traveler belisarius pure lui oppure devo andarlo a sposare con Johan Evil 26 anni ok che medioevo però non ci staglieremo ok che succede oh l'imperlotino è scoppiato ancora una volta qui c'è ottima che c'è quest'uomo qui davvero è fastidioso quest'uomo cazzo mia truppa no è l'altro era qua sono 800 se io richiaro guerra questo è in guerra con sauro per prendere territori ma se io richiaro guerra potrei approfittare so che non ho mai mille e non posso neanche invadere perché sono una bambina ma che non ho prestigio ad alto bene è che tende tantissimo a decollare molto tempo per poter partire ancora neanche partire veramente che noi abbiamo fatto tante avventure quella ma non abbiamo fatto la nostra storia con Belisario riconquista abbiamo avuto due segnanti di donne che ci hanno un master libro in questo video qui me lo dici di opinione purtroppo è questa la vita tanto qui oddio il mongole mi pare è venuto fuori mamma mia ti può fare un'allenza con me mi teresa assist and join the war ma sono qui quasi quasi però no non sono qui nella natura perché vogliamo rivecola delle norme di Belisario però che non è stato possibile troppi morti problemi vari anzi il futuro è vissuto per due episodi almeno questo mentre ad ora un singolo episodio è una scelta sbagliata che 500 cosiddette di morire e muore cioè mentre ad ora è sfortunata era una buona rendente alla fine aveva anche tratti interessanti come military engineer insomma non era come suo padre ma era un buon tratto che sfiga che sfiga questo potrebbe essere il nostro cavaliere ragazzi comunque prima di oggi spero che vi sia piaciuto in caso vi lascia un like a commentare la vostra se potete iscrivervi al canale attivare la campagna in linea c'è notifiche che non vi ricocciranno seguitemi su varie social come facebook discord instagram e tiktok così per sapere di più sui miei lavoro potete viaggiare i contenuti molto di amico offerti e partecipare attivi ai tre canali della community sondaggi richieste e discussioni in uto c'è la possibilità di abbonarsi anche tramite youtube a fare la maggior parte di vantaggio qui bergemoji io ti potrei rendere prima ma anche se hai di cadere abbonato e quant'altro c'è la possibilità di abbonarsi tramite Twitch con Twitch Prime quindi domani per seguirmi domani per supportarmi il lavoro ragazzi vediamo qui l'episodio davvero spiegatissimo questo pure c'è un di aiuto non andate fino a qui mamma mia aiuto non andate fino a qui e la verrà che si è unita bene comunque ragazzi vediamo qui questo episodio c'è un prossimo spero che non sia davvero l'ultimo dai vostri terri passo e chiudo ciao ciao